Giornata numero 8 di campionato, la giornata delle sorprese. Lo fa anche il Taranto che supera 2-1 il Crotone. Rossoblu che partono con il 3-5-2, Cianci e Canutè in attacco, 4-3 per la formazione di Zauli che delude nel corso soprattutto del primo tempo. Taranto vicino al gol del vantaggio con un tiro alla sesto minuto da parte di Romano, Dini mette in calcio d'angolo coperto dal sole forte. Il tredicesimo fa scorrere un brivito sulla schiena di Vannucchi il Crotone, Tribuzzi centra in pieno l'incrocio dei pali con un tiro dal limite. Trentesimo punizione dalla sinistra di Romano, Dini allontana con i pugni e il preludio al gol del vantaggio del Taranto che giunge 3 minuti più tardi. Lancio lungo dalla difesa, Canutè sfrutta un errato posizionamento difensivo da parte del Crotone, beffa sotto il corpo Dini e 1-0 per il Taranto. Quarantaduesimo punizione di Zonta per il Taranto, di testa c'è De Santis che serve di testa come detto Cianci, anche lui batte Dini con il capo. 2-0 per gli Ionici, si va così negli spogliatoi. Cinquantacinquesimo Tribuzzi, diagonale, bravissimo Vannucchi a mettere in calcio d'angolo. Sessantacinquesimo Tuminiello di testa, debole per Vannucchi. Ma il Crotone trova a 9 minuti dalla fine il gol del 2-1, angolo di Giron, testa da parte di Tuminiello, beffa, Riggio e Vannucchi è 2-1. Taranto che si difende bene e sul finale avrebbe addirittura l'occasione per trovare il gol del 3-1. Papaserio serve Fiorani in aria tutto solo, stoppa il pallone in aria piccola ma il suo sinistro è impreciso. Nonostante i 5 minuti di recupero il Taranto mantiene il successo per 2-1. Una risposta di carattere alle porte chiuse e alle polemiche degli ultimi giorni. Grazie.